Grazie a voi. Di Galoppo il numero 6 di Rodio, c'è Lotta con Ready Wind all'esterno che cerca di passare sul Ricco Real, al cui interno c'è Rufina Spin, insiste Ready Wind e dopo 200 metri in 13.8 è Battistrada. Il cavallo affidato Enrico Bellay, nel frattempo c'è l'errore del numero 4 Rumor Room, seconda posizione per Rufina Spin, dietro la quale ha ripiegato Ricco Real. Il quarto iniziale del favorito in 29.3. La quarta posizione è per Rolling Stones con all'interno Rana Wainando, poi ancora Rugantino Hans, Rodio Rimesso e gli altri. Con Ready Wind che sta continuando a imporre andatura abbastanza sollecita ma all'esterno cerca di avanzare Rolling Stones seguito da Rana Wainando. Andiamo a vedere il parziale di metà gara per Ready Wind in 1 minuto e 4 decimi. Si viaggia dunque nell'ordine dell'1.15.5 con Rolling Stones che insiste e giunge al Salchi del Battistrada. Quest'ultimo che sta completando in questi istanti il primo giro in 1.15.5. Ready Wind leader nei confronti di Rolling Stones, Rufina Spin in corda, poi all'esterno Rana Wainando ancora Ricco Real e Rugantino Hans. Siamo ormai all'apice dell'ultima curva con Ready Wind che difende la posizione da Rolling Stones che ci prova ancora all'esterno, quindi Rufina Spin, Rana Wainando e gli altri. 200 metri al traguardo con Ready Wind che allunga e prende vantaggio da Rufina Spin al cui esterno c'è Rolling Stones lungo la corda, ci prova Ricco Real, poi cerca un varco anche Rugantino Hans. Ready Wind ha staccato dagli avversari, c'è lotta per le piazze con Ready Wind che vince, mentre per il secondo probabilmente sbuca all'interno Rugantino Hans a battere di precisione Rana Wainando impegnato invece a centropista. E dunque pronostico rispettato da Ready Wind, 2-1 sul mio cronometro, 1.15.6 la media per l'allievo di Rolger Elett con il Salchi. Enrico Bellè il numero 5 al primo posto sul tabellone in questa prova di apertura del convegno odierno. Da un capo all'altro il figlio di Varen che vince con netto margine mentre c'è lotta tra quattro concorrenti per la piazza d'onore. Ed è probabilmente molto stretta tra Rugantino Hans all'interno e Rana Wainando all'esterno che hanno battuto Rufina Spin. Dunque fotografia tra il 9 e l'11 per la piazza d'onore dietro al vincitore Ready Wind. Grazie. 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 Grazie.